Buongiorno a tutti, sono Igor Francesco Luceri, psicologo e psicoterapeuta della Gestalt. Per oggi non ho preparato nessun gioco da suggerirvi, ma sulla scia di quanto ho detto la volta scorsa, anche oggi vorrei soffermarmi nel condividere con voi alcune riflessioni riguardo al come. Quindi non soltanto sul cosa fare, ma sul come facciamo le cose. E in particolar modo vorrei, mi voglio soffermare sulla relazione, quindi condividere con voi alcune mie riflessioni e in quanto mie prendetele in questo modo, quindi accoglietele o rifiutatele a seconda se le ritenete buone oppure no per voi. Alcune riflessioni su come impostiamo e gestiamo e organizziamo le nostre relazioni. In che modo è possibile fare questo? Ma diciamo che io ho individuato due grandi dimensioni che possono essere alla base delle nostre relazioni. Il potere e l'amore. Ognuna ha delle caratteristiche, che adesso io vi elencherò, e quindi potete anche divertirvi e incuriosirvi nel notare se nella vostra quotidianità, nei vostri rapporti personali, tendete a utilizzare di più una modalità o l'altra. Bene, partiamo dal potere. Che cosa succede quando noi impostiamo una relazione basandoci sul potere? Beh, intanto creiamo una relazione asimmetrica, quindi in cui le due persone non sono sullo stesso livello, ma in cui i livelli sono diversi. Questo perché? Perché il potere significa proprio che il potere è o da una parte o dall'altra, quindi si crea una differenza tra le due persone. E in che modo noi utilizziamo questo potere nella relazione? Attraverso il controllo. Quindi cominciamo a diventare controllanti nei confronti dell'altro. E allora a chiedere all'altra persona, che sia il partner, che sia un amico, che sia un figlio, a chiedere che cosa fa, a chiedere, a verificare se ha fatto quello che aveva detto di fare, eccetera. Quindi utilizziamo una modalità in cui controlliamo l'altro. E questo perché? Perché pensiamo, magari in modo inconsapevole, di avere più potere dell'altro, e di avere un potere sull'altro. Che cosa porta a usare il controllo? Beh, questa è un'esperienza che sicuramente ognuno di voi fa, essere controllati non è piacevole. E quindi se io vivo con qualcuno che mi controlla, a un certo punto comincerò a essere stufo di sentire questo controllo. E quindi il controllo, se esasperato, se portato avanti per molto tempo, provoca che cosa? Conflitto tra le persone. E quindi chi è controllato non si sente visto, non si sente rispettato, e comincia a... si sente invaso nei propri confini, e quindi comincia a difendersi, confliggendo con l'altro. Tutto questo messo insieme genera una relazione di dipendenza. In che senso? Nel senso che se io controllo, tendo a controllare l'altro, e l'altro tende a farsi controllare da me, nonostante dopo un po' sia spiacevole e si tende a confliggere, si crea una dinamica tale per cui c'è sempre uno che controlla e uno che viene controllato. E soprattutto chi viene controllato e vive in quel clima relazionale non ha la possibilità di sviluppare delle modalità, delle risorse di autonomia. E quindi è il controllato stesso che ha bisogno del controllante. Creando così un circolo vizioso, perché si crea un circuito di malessere, perché poi arriviamo al conflitto, ma che non è possibile uscirne, perché se io sono abituato ad avere qualcuno che mi controlla, non posso uscire da una relazione del genere. E se io sono abituato a controllare, neanche io posso uscire da quella relazione, perché avrò sempre bisogno di qualcuno che si farà in qualche modo controllare da me. Cosa succede invece se alla base della relazione c'è l'amore? Beh, se c'è l'amore, l'amore si esplicita attraverso l'interesse e il dialogo. Voi pensate a quando siete innamorati, siete stati innamorati, o quando, diciamo, al di là dell'innamoramento per l'altro, vi appassionate a qualcosa, che è la stessa cosa. Quando ci appassioniamo molto, non so, a un hobby, a un interesse, lo facciamo con amore. Ecco, che cosa succede in quelle situazioni? Lì, notate già subito una prima differenza, che quando noi ci rivolgiamo alle nostre passioni o a persone di cui siamo innamorati, non andiamo, non ci rivolgiamo attraverso un controllo, ma attraverso un interesse. A noi interessa quell'argomento, a noi interessa quella persona. E quindi cerchiamo di sviluppare una modalità che possa soddisfare il nostro interesse, il nostro bisogno di conoscere. E qual è questa modalità? Il dialogo. Già vedete come, quindi, a differenza di prima, non si crea più una dimensione di asimmetria, ma una dimensione simmetrica, cioè dove le due persone sono sulla stessa posizione, in cui c'è uno che è interessato all'altro e viceversa. Quindi, cosa succede? Attraverso questo interesse reciproco, in cui l'altra persona si sente investita dalla vostra curiosità, dal vostro interesse, sviluppa il piacere di rivelarsi. E quindi cosa si crea? Si crea collaborazione, cioè non c'è più come prima qualcuno che dice che cosa deve essere fatto a qualcun altro, ma si crea un dialogo tra due persone interessate in modo reciproco, che restano, diciamo così, più libere, più svincolate. E quindi ciò che le accomuna, ciò che le collega è la collaborazione. Tutto questo a cosa porta? A differenza di prima, che portava alla dipendenza, porta all'autonomia, cioè alla possibilità di collaborare insieme per uno stesso obiettivo, per raggiungere una stessa meta, ma rimanendo soggetti a sé, rimanendo con la propria, appunto, autonomia. Quindi, nel caso della relazione basata sul potere, quello che noi sviluppiamo, appunto, è un controllo che porta al conflitto, creando così una relazione di dipendenza. Mentre, in una relazione basata sull'amore, sviluppiamo interesse, sviluppiamo dialogo, che porta alla collaborazione, creando così una relazione autonoma, un senso di autonomia. Le differenze le potete, appunto, notare già da questo, ma si notano anche da un altro aspetto, e cioè che, in una relazione basata sull'amore, quello che ogni persona porta avanti e sviluppa, è la propria responsabilità. Mentre, in una relazione basata sul potere, si portano avanti dei doveri, perché c'è sempre qualcuno che dice a qualcun altro che cosa deve fare. Quindi, se ci sono dei doveri, vi può suonare un campanello d'allarme che siete in una dimensione di potere. Se ci sono delle responsabilità, il campanello d'allarme è che siete in una dimensione dell'amore. Come fare a riconoscere queste dimensioni? Già da quanto detto, già da quello che accade, ma anche da qualcos'altro, molto più semplice, e cioè, da come parliamo. Perché? Perché tendenzialmente, in una relazione basata sul potere, usiamo molto il tu. Quindi, tu devi fare, hai fatto, oppure come domande, hai fatto questo, hai fatto quello, e in questo modo che cosa succede? Succede che l'altra persona è come se diventasse un bersaglio della nostra attenzione. e quindi diventa un oggetto. Cioè, noi dirigiamo la nostra attenzione sull'altro, non alimentati da un puro interesse, ma alimentati da un bisogno di controllo, un bisogno di sapere che le cose sono state fatte. Quindi, il nostro punto di attenzione non è l'altro, ma è le cose che bisogna fare. E quindi l'altro diventa un oggetto. E per questo che poi sentirsi in questa modalità crea conflitto, perché l'altro non si sente visto. Nella relazione d'amore, invece, cosa succede? Tendenzialmente usiamo molto di più io, anche quando parliamo con l'altro, ad esempio, dicendo, ah, mi interessa sapere, o sono curioso di conoscere questa cosa, oppure, ma a me è successo questo, mi sento un po' così, com'è per te? Quindi, solitamente, nelle relazioni che si basano sull'amore, partiamo da noi, partiamo prima da noi, e, diciamo così, riveliamo all'altro, dando così la possibilità all'altro di fare la stessa cosa con noi, di rivelarsi a noi. E già da qua si vede la differenza, cioè che l'altro è visto come soggetto, quindi non è un bersaglio della nostra attenzione, ma è un altro soggetto, come noi, sullo stesso piano, con cui condividiamo la nostra attenzione, il nostro bisogno, il nostro piacere, il nostro interesse. E, naturalmente, è questo poi che, come dicevo prima, contribuisce alla formazione, alla creazione della collaborazione, perché l'altra persona si sente vista. Pensatelo anche su di voi, quando c'è qualcuno che viene verso di voi con curiosità e interesse, voi siete più disponibili a parlare di voi, a incuriosirvi, a collaborare e, se dovete fare qualcosa insieme, a vedere quel qualcosa come anche una vostra responsabilità con cui da portare avanti anche con piacere. Perché venite visti come soggetti, a differenza di quello che ho detto prima rispetto alla dimensione del potere. Bene, per oggi il mio contributo si ferma qui. Spero di essere stato chiaro, ma se per caso avete dei dubbi o non avete capito qualcosa o volete condividere dei pensieri, vi prego di farlo scrivendoli come commenti sotto il video, in modo anche così da creare un dialogo tra di noi. Come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e per la possibilità di mettere questi video e ci vediamo presto. Grazie ancora.